L'articolazione territoriale delle nuove procedure di mobilità è stato oggetto di un ricorso presso il Tar del Lazio che la federazione GIDA UNAMS unitamente da altri ricorrenti ha recentemente proposto. La questione ovviamente riguarda il rapporto fra la nuova articolazione della chiamata diretta del Preside e diversi profili eccepiti di illegittimità delle suddette articolazioni. Ne citiamo alcuni, il primo riguarda il rapporto fra Stato e Regioni e il necessario coinvolgimento delle Regioni nella nuova articolazione territoriale che in realtà non vi è stato. La seconda riguarda la disparità di trattamento che il personale pur avendo lo stesso status giuridico si trova a subire. Pertanto i professori della fase 0A, B e C, i docenti che fanno parte delle gradutore del concorso 2012-82 verranno trattati in modo differente. Alcuni conserveranno la sede di titolarità presso la scuola, altri saranno messi a disposizione perché poi l'ambito territoriale altro non è che una messa a disposizione dei docenti funzionale alla chiamata diretta dei dirigenti. Chiamata diretta che si ricorda allo Stato non ha avuto alcuna modalità e criterio preventivamente deliberato dal legislatore, né tantomeno contrattato dalle sigle sindacali, per cui il modello fortemente liberista si sta realizzando nelle scuole. È per questo che la Federazione Gilda Unams non ha firmato il contratto sulla mobilità ed è per questo che la Gilda Unams coerentemente impugna le ordinanze ministeriali applicative della legge per fare in modo che possa essere arginata questo nuovo ritorno a un accentramento dei poteri dello Stato che in qualche modo oggi per l'ennesima volta applica un differente trattamento nell'ambito dello stesso personale della scuola e unilateralmente opera modificazione della struttura scolastica, dell'organizzazione scolastica, accentrando sul solo dirigente tutti i poteri.